ciao bambini sono io anche la principessa come si chiama? Cadence che ha vinto l'altro video dei mia little pony oggi giochiamo io e la mia amica che ti chiami? angelina angelina ricordatevelo giocheremo con play doh play doh e questo è tedesco non lo so neanche non sai neanche tu parlare tedesco? no alea ufkalle cosa vuol dire? boh questo è dei quattro anni in su e dei due dei tre giocatori noi siamo due possiamo giocare è dell'asbro gaming allora tiriamo fuori tutto tutto guarda che pasticcio che pasticcio non ci serve non ci serve c'è me già fatto in questo gioco? si come funziona? ah non ci hai giocato guarda lui gira intorno vedi come fa? e noi a turno dobbiamo tirare le palline così le mettiamo prima qua e poi le tiriamo facciamo una prova? prima montiamo il gioco magari eh eh che se non montiamo fa un po' di casino uno due e questo che colori vuoi tu? verde blu rosso? blu 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 questo è il tuo allora questo è di credence e questo verde il mio quale plastilina vuoi? quella che volevo io! facciamo così ne prendiamo un pochino guarda io non me lo capito ora ne prendi un po' nella mano poco poco un altro pochino perfetto la metti qui anzi no no scusami prima la metti sulla figura tipo che figura vuoi fare? la schiacci bene 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 la metti su guarda la metti qua va bene guarda aspetta qual era la figura? va bene se si schiaccia un pochino eh la schiacci così poi la metti così schiacci la manopola questa giù ah forte 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 quando la alzi su viene una pallina vieni togli tutto quello che c'è in mezzo tira su ah ah vieni giù devi togliere tutto quello che c'è in mezzo vedi ti rimane la farfallina la metti qua sopra qui e poi cerchi di colpirlo così oh mannaggia vai oh così devi colpire dentro pronta? lo accendo? si comincia ah no non lo toccare va lui va lui vinciamo via vediamo ah riprova 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 ah si è incantato vediamo ok è più forte più forte guarda così ah non è andato troppo forte abbiamo tirato tiriamo un pochino più piano che problemi sai tu eh amico ma non andare così veloce io non ho ancora finito ecco oh dio adesso non guarda lì pronta vai un pochino più forte così è così dai amico amico dai quasi brava oh io no tieni riproviamo riproviamo una di noi ce la farà vinta ci sei riuscita io no vai vai un'altra pollina vai 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 che arriva prima tre vinse tu sei già uno è vero si è mangiata la mia pollina io ora faccio un bel gelato tu cosa fai lo sai o non lo sai oh io faccio il mio gelatino mannaggia e dai l'hai messo poco poco aspetta 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 l'hai messo troppo poco devi mettere di più come di più di più cosa vuoi fare la stellina si mettiamo più la stellina così e questo serve per tagliare è lui che te la che te la taglia vedi poi togli questa e ti rimane la stellina quasi quasi brava tieni ho fatto un altro punto ora faccio la casina anche tu ma io ti devo battere devo vincere io vincere io vincere io vediamo vediamo voglio proprio vedere se vinci quasi tieni dai dai gira gira e che adesso non gioca no che ne sguarda che non ce la fa tieni 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 ce l'ho fatta riprova riprova magari vinci l'ho presa l'ho presa dai che ce la possiamo fare quattro ora facciamo tu e Cadence contro di me un'altra partita che dite sempre il viola vuoi si allora ti libero le palline lo rifacciamo rifacciamo le tutte altra sfida vediamo se loro due riescono a battermi questa volta questo è tuo tieni vuoi cambiare vuoi sempre questo o vuoi cambiare ah vuoi il suo giriamolo allora mi prendo quello blu lui mi prendo quello rosso ok così che bello io posso giocare posso fare tante forme tanto lui lo accenniamo che gira che dici anche qua ce ne sono hai visto faccio il cagnolino adesso Cadence tu che dici ce la farai vincere che dici lei ce la farai vincere si si oddio lo taglio bellissimo proprio aspetta possiamo vedere possiamo vedere che conchiglia bella hai fatto guardate proprio bella bella prende due contro uno vai di nuovo di nuovo no non ce la faccio più vedi ma non è che cos'è una fazzina che sorride è andata via ho perso un'altra pallina mannaggia bello un fiore è proprio bellino vediamo ok non riesco più a farlo quasi 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 Cadence è caduta è caduta lo so ah vuole stare lì distesa si un po' più forte un po' più forte ma con la mano me l'ha buttata via non vale ma più forte un po' di forza su così non ci riesco dai come prima brava brava non è entrata però brava non è entrata vediamo faccio il picchettino provo a farlo un po' più grande forse non entra perché è piccolino ciao mi ha perso un sacco di palline ok aspetta ma ho un'idea ho un'idea perché prima di giocare non facciamo altre due palline così le abbiamo già pronte io faccio una mela anche faccio una mela oh e poi faccio sono tre in tutto devi fare un'altra questa e un'altra la devi fare schiazza forte 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 ah no devi fare un'altra pallina e poi giochiamo fai un'altra pallina con più plastilina vai vai la conchiglia che era bella bella guardate che pasticcione il play d'ovunque tutto sulle mani esatto ce l'abbiamo fatta aiuto ora si può giocare pronta non riaccendo tre no perché un'è già dentro quindi una, due, tre via allora io provo con questa aspetta che non avevamo fatto la pallina lo sai però non l'avevamo fatta ho sbagliato io era troppo poco ah rifacciamo rifacciamo oh ora si ora è la vera pallina ora la puoi tirare quando si gira girati dai 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 ma hai visto con la mano mi fa così però fai un'altra pallina se quella è troppo piccola no ti do un'altra la fai? vai ma mini mi ha battuto questo giro se il mini vi è piaciuto mettete like commentate e se volete un'altra sfida scrivetelo qua sotto giusto? ci sfidiamo ciao Ciao, mini!